Forza, forza, chi deve andare sotto? Tocca te. Ma che sei scema, ma che scherzi a me? Sono il capitano, non posso. Perché? Perché io dal bambino ci ho avuto il morbillo. Ma che fai, ti rifiuti? Certo che mi rifiuti. No, no, non puoi rifiutarti, la nostra legge non lo permette. Questa legge sono... Su, avanti, non farà rapire il capitano. Così mi importa me che sia rapido il capitano. Ma di che cosa hai paura? Il capitano non sbaglia mai. Ah, sì, adesso cosa fa? È stata una combinazione. Poche storie, portate l'avversario. Allora, sì, ragazzi, su, puntate, uno e mezzo con te. Su, cammina. Dai, mettiti nel incontro il padre. Carogna. No, no, voglio scegliere, no? A sorte. Quale mi devo prendere? Questa, va bene? Ecco, mira. Sei pronto? Prontissimo, mira. Eh, ma oggi non me ne va bene una, una aiella. Capo? Che c'è? C'è quella persona di San Juan. Ah, finalmente si è fatto vivo, dovrà fare i conti con me. Dove state? Nella saletta. Andiamo. Oh, signore, non pavano nessuno. C'è l'amore? C'è l'amore? Maledizione a voi, alle vostre informazioni. Quale è la nave che mi avete segnalato? Ma che calma? Era piena di soldati spagnoli. Ma avete fatto cadere in una trappola. Calma! Possiamo ancora impossessarci del tesoro delle colonie. E a San Juan, nei sotterranei della fortezza. E allora io attaccherò la fortezza, la raderò al suono, ucciderò... Non essere impulsivo. Cerca di ascoltare il mio piano. Con l'astuzia sarà tutto più semplice. Avanti. Non vale. Si rifà. E tiro io. Via, tiro io. Che fai? Che fai? Tiro io. Ma tu sei scemo. Cos'è? Tiro io. Cos'è che... A dove va? Vado dal capitano. Vieni qui. Ti vado a mettere la porta. Vieni qui, ti ho detto. Vieni qui.